Sì, io provo liberarmi Sì, vedi, vedi? Sì, vedi? Non fa' una... un momento di nai Sì, vedi? Sì, vedi? Sì, vedi onda? Onda, vedi? Vedi? Sì, vedi? Sì, non vedi? Sì, non vedi? Sì, non vedi? Sì, non vedi, domani Simpireà Sì, obedi? Perché? Contrario Sì, sì, sé Buongiorno, sono padre di Iari. Sì, sì, l'ho scelta. Ok, ok, ok. Bene? Ok, ok. Due, ok. Così dovete imparare questo momento a proiettere il testamento. Opre cercare sempre questo treno. Ok, e poi... Dai, guarda. Sì, sì. Ok, bene. E poi anche tirare indietro di te. Vai indietro. Oh, e poi questo pass con general flanta in cliente. Oh, è, 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 è. Cerca adesso in modo più tilo. O. Pintola con favore. Pantola con te. Pantola con chi. Vedess? 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 per questo modo e liberarsi è difficile poi c'è sempre qui ora vediamo ok guarda 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 Sì, 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 perché? Sì, 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 sì. e qua